Ah, vai via! Ehi Rossita, guarda, ho inventato un nuovo tipo di pane! La baguette! Non guardarmi così! Cosa intendi dire con, hanno già inventato la baguette? Ma quella sarà tua madre! Ecco! Ma... Dopo andrò a pulire il cesso, ma tu hai altre informazioni sul caso? Siete riusciti a ricavare qualche informazione? Avete trovato qualche indizio? Questo vuol dire che ci sono anche dei sospettati, vero? Dai, dimmi tutto, frettino! Ma chi sono i tre sospettati? Il primo non può essere nient'altro che Jack, Jackson, Jacob, Jay e Jaco Junior, lì bianchino tenevolo. O c'è lui, Marco, il piccione viaggiatore. Io non parlo, tua lingua. Ed infine il terribile silenzioso Cavataffi. Ma non è tutto, ci sono anche degli indizi. Nella scena del crimine sono state ritrovate una fiuma, delle macchie di vernice e delle impronte che potrebbero appartenere al colpevole. Ma dov'è finito, Jack? Ehi, scendi subito dal soffitto! A dire il vero, questo qua è il pavimento. Guarda qui, Jack! E tu, hai qualcosa da dire? No! Ah, ok, grazie. E tu dove eri finito? Ero nel bagno nel bar di fronte, siccome quello qui era intasato, po'. Eh, io sono lì bianchino della panetteria. E allora perché il soffitto è verde? Non vedi che sono verde. Lavoro è nero. Oh, che bel soffitto rosa! Ma che cazzo sta succedendo? Frittino ha capito che è il colpevole! Dai, dici chi è! Allora! 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 Ho, 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 ho! Allora! Allora, họ, ho, ho! I... Allora! Grazie a tutti.